Buongiorno a tutti, siamo in diretta dal porto di Genova. Una nuova avventura sta per iniziare su MSC Grandiosa, eccoci, adesso arriva il nostro maggiordomo con le valigie, ci siamo, ecco la nave, ecco la grandiosa in tutta la sua bellezza, eccoci qua, che ne dite? Purtroppo c'è chiuso, peccato volevo farvi vedere, non so se riuscite vedere un pochino la magnifica, eccoci, il nostro maggiordomo è andato e noi lo seguiamo. Grazie a tutti. Grazie pronti per disinfettare le valigie. Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Scusate, mi sono disinfettata le mani. mani bisogna disinfettarci le mani prima di insalire ho dovuto appoggiare il telefono adesso scusate devo passare il telefono perché c'è la security però dopo torno a collegarmi però adesso lo devo passare portate pazienza un attimo buongiorno fatti controlli tutto a posto siamo abili a 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